Umbria Rappi, News, Music and Reflections Presentazione del rapporto OASIL, rapporto dell'osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano, pubblicato da Cergas Bocconi, ieri a Villa Umbra. I lavori sono stati aperti da Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, che ha messo in evidenza la validità del rapporto. L'analisi, ha affermato Naticchioni, permette di ottenere una preziosa rappresentazione dei principali indicatori di spesa, struttura dell'offerta e posizionamento del nostro sistema nel panorama internazionale, necessaria per assumere decisioni strategiche. La presentazione del rapporto, inoltre, si inserisce all'interno dei percorsi formativi in ambito sociosanitario promossi dalla scuola, ha concluso l'amministratore. Presente anche l'assessore regionale alla sanità Luca Barberini, che ha sottolineato come il rapporto fotografi l'Umbria come una regione che ha saputo investire ed innovare il sistema sanitario, riorganizzando la propria rete ospedaliera, potenziando i servizi, invitando a considerare il profondo cambiamento sociodemografico in corso, considerando che in regione circa il 25% della popolazione è over 65 ed è in costante aumento la tendenza all'invecchiamento. In questo scenario risulta così fondamentale saper dare risposte sempre più appropriate alla cronicità, alla disabilità, all'assistenza post-acuzzi e alla riabilitazione, interventi che, ha dichiarato Barberini, dovremo realizzare attraverso il nuovo piano sanitario regionale, che dovrà definire un modello di sanità più innovativo, basato su una rete ospedaliera di qualità, su una maggiore attenzione alla prevenzione e sul potenziamento dei servizi di assistenza territoriale. Per Umbria Radio, Paolo Tardio.